Ciao ragazze! Ciao ragazzi! Eccoci qua, nuovo video! E finalmente il video di acquisti che abbiamo fatto whole Che abbiamo... si dice così? Non so mai come si dice... Non so... Whole, whole... Vabbè, adesso comunque vi facciamo vedere Vestiti indossati Che sappiamo che vi piace tanto L'ultimo che abbiamo fatto era quello sexy Vestiti indossati autunno Ve lo lasciamo qua in sua missione della scheda Se non l'avete visto Lasciarci anche per questo video tanti like Se vi piacciono i video vestiti indossati E se vi piace Nancy Con il nuovo look così selvaggio Vabbè, vabbè Avrà uscita da Macomio Dunque ragazze, noi siamo state Fare shopping E abbiamo un po' snapchatato Io ho pubblicato un po' di snapchat, instagram story E in tantissime Mi avete detto Dai, dai, faccio delle cose che ho comprato Quindi voi dite, io seguo, vi accontendo sempre E iniziamo subito La prima cosa che ho comprato da... No, questa cosa l'ho comprata Sì, dopo però Vi faccio vedere la daffina So che c'è il piccolo a fare Da Teddy Whale Guardate che personale che sono io Ho preso questa felpetta Molto molto carina Molto semplice, grigia Niente di particolare Però mi piace perché è corta Ed è carina E poi mi piace perché poi invece da Starivarius Che dopo vi farvi vedere l'arresto Ho preso questo cappellino Che parla apposta è super abbinato alla felpetta Guardate con il carino del risultato Cioè guardate il look che c'ho Il body Cosa lo guardate C'è proprio una cazzaglia di roba No, tutta la dà C'è sempre per vomitare Poi ho preso tante cose sportive Sì, è comode per la palestra Comunque per tutti i giorni A me piace stare comoda Insomma Questa è perfetta Molto carina Con il numero davanti ed è nera Molto semplice Con i tuoi anni 84 anni Oddio, vabbè Mi è uscito con le calette No, ma adesso Oggi è proprio tra su di simpatia No, vabbè Comunque È bellina perché Praticamente è molto molto comoda E mi sono dimenticata Ma è tutta colpa tua Comunque Ah, volevo dire che ci sono molte Promozioni, offerte Costano poco le cose La teleway Poi ovviamente Se compri tante cose come me Spendete tipo 200 euro Ovviamente Perché se compri tutto il mondo Leggis, 10.000 leggis Vabbè Che è troppo bellino Ragazzi È molto molto carino Pagato Cioè per singolarmente Tipo questo costa 18 euro Non è molto Però se ne compri tanti Diventa molto Eh no Però Ma non era l'offerta Che pagava Ah sì C'è un'offerta Che prendendone due pagate Non mi ricordo Qua c'è tutta una scritta laterale Ed è molto carino Questo tessuto Perché non è proprio un tessuto È un tessuto tipo Come spiegarlo? È un tessuto morbido È un tessuto elastico Molto poco confortevole Non è il bordo Cioè È molto bello Si arrabba bene il fisico Quindi È bello Non si dà fastidio È comunque molto carino Io c'erano tantissime Questo c'ha tutta una scritta Tore stellina E un po' d'America Un grasso Questo è grigio Tutto uguale Questo qua Porta le strisce laterali Cioè Cioè C'è proprio proprio Tutti i leggings Delle cose La ragazza mi ha detto Ho preso un po' di leggings No ma dai Non ti direbbe Giusto un po' Questo qua è tutto nero Semplice Però anche questo Vedi è un bel tessuto Guarda Si È liscio Ragazzi Comunque si possono utilizzare Anche non per la palestra Ma Per da sotto Un abito Non lo so Comunque si possono usare i leggings I leggings Non sono quanti Questo è più bello Guardate come è bello Questo leggings Come si dice Tipo Militare Però grigio Troppo bellino Vabbè D'intanto ci vuole Se vuole Te lo presto No no grazie No No grazie No Non grazie Ok Poi Poi Questo body Che è troppo bellino Questo è carino Anche di body Ce n'erano di carinissimi Pagato questo 17,95 Tutto più o meno così costava Porta tutto un ricamo Sul décolleté E anche qua In basso Ed è bordù C'era anche Brugna Brugna Di vari colori Io invece ho preso questa Perpettina Rosa Rosa pastello Troppo carina Bella E c'ha le strisce bianche Mi piace Perché comunque è comoda Semplice Per andare in palestra È carina come te Rosa bambolina Poi ho preso questa maglietta Sotto il contrario Poi devi togliere La rovescia La rovescia S'è unica proprio Questo è il color verde Petrolio Il colore che va molto Quest'autunno Eeeh Non fengono capire Eeeh Guardate che è bello Verde C'è una scollatura Poi c'è Mi guarda Sei tutta sexy Sì 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 È provocante E questo praticamente Invece di 12 euro Costava 6 euro Quindi l'ho presa Sia questo colore Di qua Caccia Come ho sentito Sembra Sì va bene Ne prendo due E anche con l'ottrugna Ok Questa è proprio bellissima Questa è ancora più elegante Vabbè Sempre un po' Guardate Questa scollatura Ci sono molto provocanti Queste maglie Non sono da Tanto scollata È il giusto Quel giusto Guardate te È quella Tipo così No Non è così Ragazzi È molto più casta Mi piace Poi Ho preso Anche io i leggings Ho preso Questo Questo è meno semplice Però c'ha Questa fantasia Di righe Fucsia E bianco È carino C'è scritto Stronger Sì ma è proprio Brutto E infatti Non è il mio stile Mi piaceva Che tu l'avessi voluto Tutto nero Sì L'avessi voluto tutto nero Però perché c'erano tutti neri Allora ho detto Vabbè prendo questo Così ha uno Con una fascia rossa Sì C'erano tutte cose strappate Perché ti ho preso questo Io ho preso questo altro leggings Che costava 12 euro poco È praticamente Tutto nero Ovviamente C'ha la particolarità Che sul ginocchio È strappato Vedete È fatto la lotta con il gatto È bellino Però Perché Non esce proprio tutto il ginocchio Esce proprio un filino di carno Questo secondo me Si lo mette anche per uscire Sì questo è bellissimo Per uscire Con una Una scappa tipo Stivaletti Ah ma con gli stivaletti Ha magari una maglia un po' lunga Proprio carino Sì Ti piace Dai Bello dai Per finire Questo lo faccio vedere Vabbè Un pantalone così L'ho fatto Un pantalone Della tuta Della non mille Tipo tuta Però poi qua c'è scritto BITCH Dai Non ho detto Puro L'ho notato BITCH Vabbè BITCH Basic BITCH Basic BITCH Non mi fiondere Cioè Ti prende la parola Ti insulta Da sua Ma non dì che ti insultano Vabbè Comunque è carino Ti può parare ad andare in paletto No però Questo comunque Anche se l'altro C'è scritto SKIN Infatti è aderente C'è scritto anche BITCH Non ricordo Non so se lo metterò Ok Io poi ho preso Vabbè Questo qua Che è bellissimo So se volete sapere Ma comunque è caldissimo Cioè È tipo un cardigan Tutto l'ho parlato Che è bellissimo Ho pagato 39,99 I migliori 40 euro Della mia vita Sono troppo È troppo bello Appena l'ho visto Ho detto no È mio E lei Io l'ho preso di nascosto L'ho preso di nascosto L'ho preso di nascosto L'ho preso di nascosto L'unica cosa È che non è il bottone Quindi mi ha portato Così Aperto Con il cappatoio Con il cappatoio O di erpiota Dico così È bellissimo Da Stradivarius L'ho preso Invece Quest'altro body Che ho sotto Fatto così Così incrocio Molto semplice Nero Ho preso invece Sempre da Paywell Che vi ho detto Che c'ha Ben body E questo qua C'era anche Questo bordeaux Grigio Rosa Vari colori E vari modelli E poi Infine da Stradivarius Ho preso Non che se niente Da Stradivarius Come mai Non ci va nulla Allora ho preso Questa gonna Di ecopelle Infatti Comunque Non l'ho pagata poco L'ho pagata 39,99 Ma è bella Guarda Perché è nera Io la volevo Una così È molto carina È semplice Ed è molto morbida Non va stritta Infatti anche in vita Mi va anche un po' larga Molto morbida E larga Sbassata Spero Penso che vada Proprio così Perché ho preso Una 40 E quindi Comunque Penso che sia Proprio così il modello E davanti Tiene tutti questi ricami Floreali Tipo giapponesini Sì C'è una tenda Nel ristorante giapponese No ma bella Cioè come Come Smerdarmi le cose Che compro E giusto il secondo È bellissima Dai Ma io da lì Poi l'ho preso Pure questo vestito E infatti È bello Vedete come è carino È nero Semplice Però ha le maniche bianche E la parte di sotto Bianca È molto carino Questo da mettere Con delle calze coprenti Perché è molto corte Con gli stivaletti Dai No coprenti E poi degli stivaletti Sì E poi dove vai A scuola No Ma cosa bella Che di questo vestitino Abitino Insomma Di là Di là C'era anche Che era bellissimo E infatti Le stava anche Molto bene Però era la mia taglia Quindi ho preferito Prendere la taglia Giusto Peccato Perché anche quello Era bello Però anche questo Ti sta bene E poi ho preso Infine Una semplice maglietta Che ho pagato 9,95 Semplicissima Rosa Sempre da Stadivarius Che è velata Vedete Porta il mezzo colletto Molto carina Tipo da sotto Giacca Ma sotto questo card Sotto sto card Non va bene Nulla Ok Il figiamo Così diventa Il vino E staglia La notte E molto carina È un po' lunghetta Secondo me va bene Anche qua Sulle maniche Porta tutti i bordini Arricciati E il particolare Che ci mette Il policio Alla Tipo da Un po' L'esce tipo così Da mettere Tipo come sotto Giacca Sotto Ma dai Carina Questa Dai No Sono tutti I poteri Che ho fatto Le aurice Ma non Non è che Vi la scopare Per quello Comunque Anche come outfit Questa Con questo sotto Va bene Se vive i colori Ma dai Ma tutto Ma perché Mi devi sempre Illuminare Tutti Mi acquisti Me li fai Supido Non so Io sono tutta Montetta Tu me Immortifichi Io ti importa Ma guarda Questa cosa Che te ne ha tosto Dai ragazzi Fateci sapere Nei commenti Se vi è piaciuto Questo video Soprattutto Se vi sono piaciute Le cose Che io ho comprato Quelle che ha comprato Nelzi Mi raccomando Dite È vero Che questo Adia Fa schifo Dite che lo vorreste anche voi Dite che adesso Ve lo andate a comprare Ammettetelo Ragazzi Se lo comprate Di voi Lo dovete Ammettere Da Ma chi lo vuole Per sto Oso Da beh Comunque Ragazzi Vi mandiamo Un bacio grande E mi raccomando Iscrivetevi al canale Di Nensi Abbiamo quasi raggiunto I 50.000 iscritti Di Nensi Si farà Non ci posso credere Viola Viola Vi ringraziamo Per tutte le Grazie Soprattutto Per i capi Negroti Sia al mio canale Al canale di Nensi Che comparirà qua Una scheda Cliccate sopra E vi iscrivete al canale di Nensi Grazie Dove ci sarò Anche io Invece Si Io la prenderò in giro Farò tutti i video Di Nascosta Accallita Quando meno Se l'aspetta Non lo so Vabbè Perché questa volta State settorializzati Vabbè Mi vedrete quindi Come non mi avrete mai visto Sul canale di Nensi Senza trucco Senza trucco In mutande Senza nulla Le predome Le predome Te sbavo La notte Comunque Se ve lo chiedete Il canale di Nensi Si chiama Molto Originalmente Nensi Nensi Ciao L'outfit più bello Ce l'ha lei Com'è bella La giacchina rossa Ciposa Amore Che dorme Con Peppa Pic Io l'amo Cicci No mamma Sono troppo stanca Che bellissima Con questa giacchina Amore Amore Bella Bella Give me five All right Bello Leopart Ciao